Novità per lo sport ad Adrano in particolare per il basket e il calcio a 5. L'Adrano Basket nella prossima stagione parteciperà al campionato di visione regionale 2 e lo farà con un roster nuovo di Zecca composto dall'ex under 19 che l'anno scorso ha ottenuto il secondo posto nel campionato di pertinenza. Salute invece la vecchia guardia che ha scritto pagine indimenticabili per il basket adranita nell'ultimo decennio. Roster che dunque avrà una media di 19 anni sarà allenato da Mauro Bascetta e soprattutto sono tutti i giovani cestisti di Adrano. Per quanto riguarda invece il calcio a 5, l'SD Adrano Calcio dopo l'amara retrocessione della scorsa stagione ha acquistato il titolo della Cireale e dunque nella prossima stagione sarà in astri di partenza della Serie B. Nei prossimi giorni saranno resi noti l'organigramma societario, il nome del mister e i primi colpi di mercato.